Benvenuti, ben ritrovati, apriamo lo spazio con la notizia del giorno di oggi che dedichiamo a un magistrato moderno, come potete leggere nel titolo in sovrimpressione. Ricorre oggi infatti il 37esimo anniversario della strage di via Pipitone Federico, in cui nel 1983 furono assassinati con un'autobomba il giudice Rocco Chinnici, la sua scorta e il portiere del palazzo in cui abitava il magistrato. Vediamo il servizio. Quando fu assassinato, Rocco Chinnici era a capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo. Con lui morirono i due carabinieri della scorta, il maresciallo Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartolotta, ed il portiere dello stabile di via Pipitone Federico, Stefano Risacchi. Le iniziative, previste per oggi, sono state condizionate dalle misure di distanziamento sociale, dalla deposizione di Corona di Fiori in via Pipitone Federico, davanti al Civico 59, alla messa nella vicina chiesa di San Michele Arcangelo. Chinnici è stato ricordato anche a Misilmeri, sua città natale, e a Partanna, dove operò a lungo come pretore. Oggi è disponibile sul canale YouTube della Fondazione Rocco Chinnici un documento in cui i magistrati Antonio Balsamo, Matteo Frasca e Roberto Scarpinato, il generale dei carabinieri Giovanni Cataldo, il sociologo Antonio Laspina, il giornalista Rino Cascio e il figlio Giovanni Chinnici parlano del giudice assassinato, del significato del suo impegno professionale e sociale e del contesto in cui lavorò. Chinnici, nei primi anni settanta, iniziò a occuparsi dei processi di mafia. Nel 1979 fu nominato consigliere istruttore. Chinnici ebbe una intuizione che fa di lui un magistrato moderno, progetta e crea un gruppo di lavoro, una scelta allora rivoluzionaria e non ancora supportata da un apposito sostegno legislativo, dando forma a quello che sarà poi definito pull antimafia. Accanto a sé, Chinnici chiamò due giovani magistrati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Con loro produsse i primi atti di indagini dei più importanti processi di mafia degli anni Ottanta. Rocco Chinnici non è stato vittima soltanto della mafia militare, quella che nell'immaginario collettivo è il volto di personaggi come Riina, Provenzano ed altri. è stato la vittima di un sistema di potere, composto da pezzi importanti della classe dirigente, che hanno visto nel suo lavoro un'attività pericolosa e destabilizzante del rapporto di forza da loro. Chinnici viene ricordato perché ha creato l'ufficio istruzione e il nucleo fondativo del pull istruzione, avviando un metodo di indagine innovativo. Ma va ricordato perché ruppe all'interno del palazzo di giustizia di Palermo un clima, alzando il livello delle indagini oltre la mafia militare per colpire i colletti bianchi della mafia, che erano la vera forza del sistema di potere mafioso. Ci fermiamo adesso, subito dopo la pausa, il resto delle notizie con la prima edizione del Tg Sud. Il titolo di oggi, i numeri della ZTL, continua a tenere banco l'allargamento della zona traffico limitato nel centro storico, lanciato in via sperimentale dall'amministrazione comunale di Trapani. La natura che genera armonia è il tema della conferenza che si è tenuta a Delice, organizzata dalla locale sezione del club alpino italiano. E poi ancora Ulisse sbarca a Palazzo Cavarretta con la mostra fotografica di Luca Sciacchitano, l'androne dello storico palazzo senatorio, riapre ai cittadini con un interessante viaggio fra cultura e luoghi interiori. Per lo sport, appesi al filo della speranza, solo il collegio di garanzia del CONI può dare una chance di salvezza al Trapani, aritmeticamente, già retrocesso purtroppo in serie C. Sì, continuiamo noi il nostro viaggio esplicativo nella ZTL di nuova versione, così come è stata voluta dall'amministrazione trapanese guidata dal sindaco Tranchida. Ce ne occupiamo oggi con un po' di numeri che vi forniamo, soprattutto ve li fornisce Mario Torrente. Grazie a tutti. Tra le criticità evidenziate anche la congestione del traffico che in alcune fasce orarie si viene a creare alla Marina. In linea di massima, tutti si sono comunque detti favorevoli alla ZTL, evidenziando ognuno dal proprio punto di vista la necessità di rimodulare il provvedimento. C'è stato anche chi ha proposto di rimandare tutto alla prossima stagione, limitandola a poche strade, riaprendo Corso Vittorio Emanuele, Via Libertà e Lungomare d'Antalighieri, in modo da ripristinare la circolazione dei mezzi su quest'asseviario ed evitando così di congestionare il traffico alla Marina. Tra gli operatori economici non c'è però unità di intenti e c'è chi teme di ritrovarsi svantaggiato rispetto ai titolari delle attività di altri punti del centro storico, considerati più strategici in base alle nuove disposizioni. Come ovvio, dopo una settimana è ancora presto per fare bilanci. L'unica cosa certa al momento sono i numeri che parlano di 52 nuove autorizzazioni per il suolo pubblico, ma nessuno è andato oltre il 100% degli spazi previsti, quando invece la normativa per fronteggiare l'emergenza coronavirus permette di arrivare fino al 200%. Quindi nessuna attività del centro storico ha ampliato fino al massimo consentito dalla legge. Sono state poi 14 le nuove autorizzazioni, 132 i rinnovi. Dal fronte dei posti auto un po' di numeri sono stati snocciolati ieri dal sindaco Giacomo Tranchida nel corso della seduta straordinaria del Consiglio Comunale. Finora sono stati consegnati 1.220 pass per la circolazione ed altri 150 sono in fase di rilascio. I pass della sosta sono 850, di cui 70 per la seconda macchina. Il tutto per un centro storico che complessivamente nel perimetro interno della ZTL può contare da 620 a 630 posti auto, da portare al massimo a 650, non uno di più. All'ospedale di Trapani è stato eseguito un prelievo multiorgano. La donatrice è una turista milanese in vacanza a Pantelleria, deceduta purtroppo per emorragia cerebrale. Vediamo. Un prelievo multiorgano è stato effettuato nella reanimazione dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. I medici, con il consenso dei familiari, hanno prelevato fegato e reni da una donatrice in morte cerebrale per emorragia cerebrale. Ad eseguire l'intervento sono stati i chirurghi dell'ISMET di Palermo, con il supporto di un'equipe locale di sala operatoria anestesiera e animazione, diretta da Antonio Cacciapuoti, coordinata da Cristina Gozzino e coaudivata dall'infermiere di coordinamento Ivan Paesano e dal coordinatore infermieristico di sala operatoria, Salvatore Privitera. La donna, sottoposta al prelievo degli organi proveniente dalla provincia di Milano, era in vacanza a Pantelleria e durante una gita in barca ha avuto un malore con arresto cardiaco. Soccorsa dal 118. È stata sottoposta a reanimazione cardiopolmonare con ripresa dell'attività cardiaca. La donna è stata intubata e sottoposta alle procedure di emodinamica, successivamente trasferita in reanimazione nel presidio ospedaliero trapanese, dove, a causa di un'emorragia cerebrale, è andata in morte cerebrale. Alla famiglia di questa donatrice rivolgo il mio profondo ringraziamento, ha detto il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, Gioacchino Oddo, scegliere di donare gli organi è un grande atto d'amore e di infinita generosità che coinvolge fortemente familiari e permette di salvare più vite umane. I carabinieri e la polizia hanno identificato e denunciato 103 ragazzi e ragazze sorpresi durante un rave party abusivo e illegale, ovviamente, a loco grande. Vediamo. Dal 18enne al 40enne provenienti da ogni parte d'Italia, ragazzi e ragazze, dai cultori dello sballo ai bravi ragazzi, è variegato il panorama del tipo umano che è stato identificato domenica sera in una cava dismessa nei pressi di loco grande. I carabinieri della compagnia di Trapani, con il supporto del XII Reggimento Sicilia di Palermo e del reparto mobile della Polizia di Stato di Palermo, sono intervenuti per interrompere un rave party non autorizzato. Al termine delle operazioni di identificazione dei presenti, eseguite dai carabinieri e dai poliziotti, sono stati denunciati per invasione di terreni 103 persone. Inoltre, nel corso dei servizi svolti nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato quattro persone, di cui due in flagranza di reato e sequestrato marijuana, crack e cocaina. I carabinieri di Borgo Annunziata Derice, con l'ausilio di personale del nucleo Cinofili di Palermo-Villa Grazia, hanno arrestato Vincenzo Ferrante Trapanese, 34 anni, trovato in possesso di 14 grammi sfusi e tre dosi confezionate di marijuana. L'altro arrestato è Giuseppe Rinaudo Trapanese, 30 anni, trovato in possesso durante una perquisizione domiciliare di 10,33 grammi di crack, suddiviso in 18 dosi da 5 grammi e un grammo di marijuana. Entrambi gli arresti sono stati convalidati dalla magistratura. Ferrante e Rinaudo sono stati posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Rinaudo. Altre due persone per reati commessi in precedenza sono state arrestate in esecuzione di ordini custodia cautelare emessi dal Tribunale di Trapani e poste agli arresti domiciliari. La natura che genera armonia. Questo è stato il tema dell'incontro che si è tenuto a Derice nella sede del Centro Alpino Italiano. Vediamo. L'iniziativa promossa dalla sottosezione del Club Alpino Italiano con il patrocinio del Comune di Erice si è svolta nella suggestiva location della terrazza panoramica allestita dai soci volontari nella sede di via Pollonis da dove si può ammirare un panorama mozzafiato sul Monte Cofano e su tutto il Golfo di Bonagia. L'incontro si è aperto con i saluti del referente del CAI di Erice Vincenzo Fazio che ha parlato dei recenti lavori di riqualificazione autorizzati ed eseguiti nei locali della baita comunale diventato un punto di accoglienza escursionisti del CAI. La sede del CAI è stata riqualificata di recente grazie a un'attività portata avanti in partenariato con il Comune di Erice ma grazie soprattutto all'impegno profuso dai soci volontari del CAI che hanno speso le loro energie nell'attività di volontariato per poter ristrutturare e riqualificare questa baita che è stata riconosciuta di recente dal CAI centrale di Milano come punto d'accoglienza del Sentier Italia. La sede sociale di Erice è stata inserita appunto come punto di accoglienza dei 400.000 soci del CAI che attraversano il Sentier Italia e quindi speriamo di attrarre i prossimi influssi turistici del trekking e del turismo naturalistico in Sicilia. Nel corso della conferenza Angela Savalli, componente del Consiglio Direttivo della Sottosezione CAI di Erice e dei comuni dell'Agro Ricino ha poi parlato della rete sentieristica illustrando le mappe dei vari itinerari. I vari progetti sui percorsi a partire dal recupero del sentiero delle mura erimo puniche e della manutenzione straordinaria al Bosco Antico sono invece stati al centro dell'intervento del Vice Sindaco del Comune di Erice Gianni Mauro presenta l'iniziativa assieme all'assessore al turismo Rossella Cosentino. Abbiamo approvato proprio in giunto un ulteriore progetto che tende alla rivolificazione dei sentieri comprendendo anche l'existazione della funivia del centro storico, quello davanti alla cattedrale come punto di ingresso del sistema del bosco che in un altro progetto è stato già finanziato l'abbiamo chiamato proprio Bosco Sacro perché pensiamo che la sacralità della natura per quello che abbiamo sentito anche stasera è assolutamente importante ed è un valore aggiunto per la comunità di Cina. La conferenza è quindi entrata nel vivo con le relazioni di Vincenzo Garraffa medico agopuntore ed esperto in medicina orientale e di Anna Maria Grifo, anche lei medico agopuntore. Noi siamo stati invitati qua al CAI di Erice per far vedere come un'antichissima cultura qual è quella cinese, una cultura millenaria, è riuscita a capire proprio i segreti più profondi di questa armonia nascosta in tutte le sue manifestazioni sia nella natura che nell'uomo e i cinesi hanno cercato in qualche modo di riprodurre, di riportare l'uomo che è la più straordinaria di tutte le creature a riappropriarsi di questa armonia universale attraverso delle forme di movimento e di lavoro sull'assetto energetico dell'uomo per cercare appunto di rimetterlo in equilibrio con la natura stessa. Sabato pomeriggio alle 17 il Palazzo Cavarretta, l'androna di Palazzo Cavarretta, sede del Consiglio Comune di Trapani, si riapre al pubblico con una mostra. La prima dopo il lungo periodo di chiusura forzata dovuta alla pandemia, per cui c'è questo viaggio tra la cultura e i luoghi dell'interiore guardato dagli occhi di Luca Sciacchitano, scrittore di imprenditore, adesso anche espositore, che ci porta a fare un viaggio alternativo per ritrovare la nostra Itaca. Ascoltiamo. Ripartiamo anche da un punto di vista artistico, riusufruendo di uno dei posti pubblici che per il periodo pandemico sono stati ovviamente chiusi per motivi di sicurezza sanitaria. Parliamo dell'androna di Palazzo Cavarretta che spesso viene adibito a sala, esposizioni e questa volta si riparte con una intelligente e nuova idea concettuale di arte. Un viaggio, quello di Luca Sciacchitano che vedete qui accanto a me, che ci porta fino ad Itaca attraversando un simbolico viaggio di Ulisse in giro per l'Europa, toccando le tappe che lui ha visitato in alcuni suoi viaggi, ma alla fine facendo confluire tutto verso casa nostra. Un viaggio non immaginario, concreto, ma che ha anche qualcos'altro che vuole raccontarci. Che cosa in particolare? In generale racconta il viaggio della vita. La vita è un viaggio, alla fine si conclude nella nostra Itaca per chi ha la fortuna di trovarla, chi giustamente la cerca tutta la vita. Potrebbe anche non trovarla, però diciamo l'importante non è tanto trovarla, ma appunto cercarla, a viaggiare. E sullo spunto del viaggio ho ideato questo concept, questa mostra. Essendo favorito dai voli Ryanair a pochi euro negli anni passati, ogni mese sì, cercavo di partire, insomma a spendere qualche soldo in questa avventura. E ho accumulato delle foto. Queste foto le ho selezionate per una mostra fotografica che prende spunto dai viaggi di Ulisse. D'oggi sono le tappe che affronto Ulisse, la sirena, il ciclope, quelle che conosciamo. E d'oggi sono le foto selezionate, tutte incorniciate in un social network ideale inventato, un Instagram, che simboleggia anche questo, l'affanno delle nostre vite a mostrarci, a fare vedere quello che facciamo ogni giorno. Tutto per andare a una Itaca nostra personale, dove lì poi non c'è più un pubblico a guardarci, ma siamo noi con noi stessi e con il nostro destino. E la mostra ha tanti spunti di riflessione. Va visto, vanno osservati i pannelli, va ragionato sui singoli dettagli per trovare significati diversi. Si terrà prima intanto Palazzo Carretta, ma poi sposterà i pannelli all'aeroporto Vincenzo Frero di Birgi? Esattamente. Con l'amministrazione dell'aeroporto siamo già in contatto. Mancano le ultime cose burocratiche fondamentalmente, ma siamo fondamentalmente dal 10 al 30, quasi sicuramente saremo all'aeroporto di Trapani, lungo il percorso che i passeggeri fanno per partire. E quindi camminando loro seguiranno le tappe di questo viaggio. È tutto molto metasuggestivo. Senti, come ce lo racconterai questo viaggio sabato, quando inaugura il racconto l'esposizione? No, credo che sia più bello vedere i pannelli, capirli, osservarli. Osservare i dettagli, ripeto, perché ci sono molti dettagli, come la batteria per esempio che si va scaricando, che aiutano a dare un livello di comprensione personale. Poi ognuno avrà il proprio, ovviamente io ho dato un mio livello di comprensione. Però il processo significativo ovviamente passa dalle esperienze di ciascuno di noi, dal nostro mondo della vita, si chiama in sociologia. Quindi in base alle nostre esperienze noi trarremo il nostro significato personale. È questo che vuole dire la nostra itaga personale. Lì arriveremo da soli. Un viaggio, un'avventura nella quale si è accompagnato anche da un partner privato. Sì, soprattutto va ringraziato l'Hotel Suvachi e Andrea Oddo che ha sponsorizzato l'evento perché per fare arte purtroppo servono soldi, non è che i pannelli si stampano da soli. E questo è un altro processo significativo che potremmo intraprendere, ovvero il senso di fare arte a Trapani con le difficoltà economiche che ci sono perché non si può pensare che io non sono un ragazzo per carità, ma io arrivo tardi al mondo dell'arte. C'è chi arriva molto prima di me e ovviamente non ha capitali, ma ha tante idee, tanta volontà. Mancano luoghi dove poterla fare, mancano capitali. Quindi io ringrazio personalmente l'Hotel Suvachi che mi ha sponsorizzato. Ma penso ai tanti ragazzi che questa fortuna non ce l'hanno e rimangono confinati magari in un garage e poi alla fine magari rinunciano e non va bene. Quindi anche qui cerchiamo di fare un ragionamento sul senso dell'arte in questa città. Gli appuntamenti su Telesud, questa sera alle 21 e alle 23, terza puntata della rubrica Trapani riparte condotta da Nicola Augliaro e da Anna Maria Turrio Baldassari. Per quanto invece riguarda il meteo c'è il servizio e subito dopo lo sport. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno e le temperature comprese tra i 29 e i 33 gradi. Venti dal nord-est con mare poco mosso. In serata cielo sereno e temperature comprese tra i 26 e i 30 gradi. I venti soffieranno da nord-est e il mare sarà poco mosso. Nella mattinata di domani ancora cielo sereno con temperature comprese tra i 26 e i 33 gradi. Venti dal nord-est con mare poco mosso. Nel pomeriggio di domani cielo sereno e temperature comprese tra i 30 e i 33 gradi. I venti soffieranno da nord-est, mentre il mare sarà poco mosso. Siamo appesi al filo della speranza per quanto riguarda il trapani calcio. Solo il collegio di garanzia del CONI può dare una chance di salvezza ai Granata. Aritmeticamente già retrocessi purtroppo in serie C. Ma ancora non tutto è stato scritto. Confidiamo appunto nel collegio di garanzia del CONI. Ascoltiamo il servizio realizzato da Federico Tarantino. Potrebbe non bastare il verdetto che darà il campo per decretare la classifica finale del campionato di serie B. Il trapani ad oggi è aritmeticamente a retrocesso in serie C. E venerdì ospiterà il crotone per l'ultima giornata della stagione regolare del campionato di serie B. L'ultima speranza per i Granata è collegata al ricorso presentato al collegio di garanzia del CONI contro la penalizzazione di due punti inflitta alla società trapanese dalla Corte federale d'appello per non aver pagato tutti i tesserati entro il 16 marzo scorso. Un verdetto giudiziario sportivo non ancora definito. Al momento non è stata stabilita la data d'udienza. La speranza è che il collegio di garanzia del CONI si esprima prima della gara di venerdì sera contro il crotone. Ma ciò potrebbe avvenire anche la settimana prossima. A riguardo infatti c'è il precedente dello scorso anno del Foggia con l'organo di giustizia sportiva che si è espresso dopo il termine della stagione regolare e prima dei play-out di serie B che avranno inizio il prossimo 7 agosto. Il trapani si sta muovendo ed ha già deciso che nel caso in cui i due punti di penalizzazione incideranno per la retrocessione dei Granata non ci sarà alcun rompete le righe fino al pronunciamento del collegio di garanzia del CONI se ciò avverrà entro i play-out. Venerdì intanto non ci sarà in panchina Fabrizio Castori squalificato per due giornate dal giudice sportivo per le proteste avanzate all'arbitro per il secondo rigore non concesso al trapani nella gara contro il Perugia. Contro il crotone mancheranno anche Fausto Grigio e Moses Auger già diffidati e poi ammoniti al Curi. La squadra resta fiduciosa, il cammino e gli esiti delle gare da gennaio in poi non potrebbero disporre gli animi altrimenti. I punti conquistati da Fabrizio Castori dal suo arrivo mettono il trapani quarto in classifica per rendimento e se non ci fosse stata la disastrosa prima parte di stagione la squadra sarebbe oggi in piena corsa play-off. Fiducia espressa anche da Gregorio Luperini, ospite ieri sera a Sport Sud. Io penso che dopo la pausa, cioè da gennaio, abbiamo fatto tutte le partite positive è stato un filotto continuo che ci ha portato a una crescita fino ad oggi è stata una conseguenza di dicembre-gennaio e ce la siamo portati dietro. Ora è finita la quarantena, siamo in entrati che si sta bene, siamo in forma e come dicevo prima, mentalmente non siamo consapevoli delle nostre capacità, delle nostre forze e entriamo in campo con la mentalità giusta. E noi ci diciamo che se si vince col Crotone noi siamo salvi perché noi se si vince col Crotone abbiamo 46 punti, non ci si salva con 46 punti. L'addio di Giuseppe Scurto che dalla Primavera del Trapani approda a quella della SPAL. Bravo! Giuseppe Scurto non sarà più l'allenatore della Primavera del Trapani. Il tecnico ha deciso di sposare la casa della SPAL approdando quindi al Grotone A del campionato Primavera. L'ingaggio dell'allenatore arcamese è stato già ufficializzato dalla formazione ferrarese con un contratto di un anno. Un'avventura vissuta con il Granata di una sola stagione ma di alta intensità con un secondo posto con il Trapani nel campionato di Primavera 2B. Migliore risultato nella storia del giovani e della società Granata. Si tratta del secondo addio tra gli allenatori del settore giovanile del Trapani nella scorsa stagione. Oltre a Scurto, nelle settimane precedenti, Aronica aveva deciso di lasciare il giovane in Granata per approdare in prima squadra al Savoia in Serie D. Ufficiata l'iscrizione al campionato in Serie D del Dattilo. La Covisod, l'organismo di garanzia finanziario dei dilettanti, ha dato il proprio assenso per l'ammissione al torneo. Si tratta di un atto importante per la formazione del presidente Mazzara che così dopo 40 anni di storia disputerà per la prima volta il quarto campionato nazionale. Il Dattilo giocherà le proprie gare interne al provinciale. Questo perché l'impianto mancuso di Paceco necessita di accorgimenti strutturati per poter disputare il campionato di Serie D. Sul fronte mercato, il Dattilo sta completando le conferme della Rosa dello scorso anno e si sta concentrando sulle trattative riguardanti gli under. Con questa notizia concludiamo lo spazio dedicato allo sport. Vi auguro una buona giornata e ci rivediamo domani con l'informazione.